Questo stand di biancheria appendibile è pratico, compatto ed ideale per asciugare la biancheria in bagno o, ad esempio, sul balcone, ed è di altissima qualità. Ecco perché è dotato di una garanzia di 5 anni. I bracci sono facili da regolare, offrendo la possibilità allo stand di biancheria di essere appeso perfettamente in orizzontale a tutte le porte, ringhiere e pareti fino a 11 cm di spessore. Possiede un sistema di bloccaggio intelligente che memorizza l'ultima posizione, assicurandoti di riaprirlo istantaneamente nello stesso modo la prossima volta che lo utilizzerai. Lo stand di biancheria è perfetto per asciugare un piccolo carico di lavatrice o per la biancheria delicata che si preferisce non mettere nell'asciugatrice. Nonostante la sua compattezza, offre 4,5 metri di spazio per asciugare e lo stand di biancheria può sostenere un carico di biancheria totale pari a 7,5 kg. Un ulteriore vantaggio, la parte dei bracci a contatto con la porta, la ringhiera o la parete è rivestita da un materiale protettivo per evitare qualsiasi tipo di danno. E per finire, lo stand di biancheria è facile da richiudere, permettendo così di riporlo rapidamente quando non lo si usa.